Va bene. Grazie Guido. Guido interviene dallo sviluppo all'economia della cura. Grazie Guido. Allora, intanto grazie di avermi invitato, poi siccome il tempo è scarso cercherò di procedere per punti. Quindi, intanto rilevo che aver messo il collasso della biosfera al centro di un incontro politico è una novità importantissima che spero che abbia poi le conseguenze, perché finora la crisi climatica e ambientale, di cui credo che siamo tutti quanti consapevoli e tutti quanti d'accordo nel riconoscere l'origine antropica, è sempre stata relegata nel capitolo ambiente e l'ambiente messo al fondo dei vari punti dei programmi politici delle forze di sinistra. Così come la critica femminista al patriarcato, in genere è stata relegata nel capitolo politica delle donne o per le donne, eccetera, e messa anche lei in coda ai programmi politici. Mentre invece è una questione assolutamente centrale, a cui dovrebbero fare riferimento tutti quanti gli altri obiettivi che noi di volta in volta snoccioliamo per cercare di affrontare i problemi della vita quotidiana e della lotta di classe. L'enciclica Laudato Si, a cui l'associazione di cui io faccio parte si rifà e che verrà riedita in una nuova versione fra qualche settimana, mette al centro proprio questo problema, che le principali vittime del collasso climatico, della crisi ambientale, sono i poveri della terra, le classi sfruttate, le comunità emarginate e oppresse e soprattutto le donne, che ai diversi livelli della gerarchia sociale sono comunque sempre un gradino al di sotto nella gerarchia dell'oppressione. E quindi sono loro, no, questi, le persone più interessate e i possibili protagonisti della lotta contro il collasso ambientale. Quindi non c'è nessuna contrapposizione fra la rivendicazione dei diritti delle persone sfruttate, delle classi sfruttate e l'ambiente. Anzi, soltanto attraverso il ripristino della vivibilità ambientale può trovare la sua strada il soddisfacimento delle rivendicazioni più elementate. è fondamentale perché finora è stato fatto poco, chiunque di noi abbia avuto esperienze di cercare di parlare della crisi ambientale in un consiglio di fabbrica o in un'assemblea di delegati o in un comitato di persone in lotta con qualche punto specifico dell'ambiente si accorge delle enorme difficoltà di ricostruire l'orizzonte generale dentro cui dovrebbero collocarsi il nostro agire e anche le nostre analisi del tempo presente con le rivendicazioni spicciole, importanti e che ovviamente sono urgenti e premono su cui si costruisce la lotta di classe. Eppure questa è un'operazione essenziale che noi dobbiamo cercare di fare quotidianamente perché una cultura unica, secondo me, cultura adatta al nostro tempo e proprio deriva dalla capacità e dalle misure in cui riusciamo a collegare le rivendicazioni più urgenti e più immediate che riguardano la nostra vita quotidiana all'orizzonte complessivo del collasso climatico all'interno del quale, come è stato detto già, ci troviamo. Questa è la cultura del nostro tempo. Chi non si misura con questa problematica, che naturalmente è difficilissima da affrontare e ancora di più da risolvere, non sta facendo, secondo me, cultura. L'altro punto è che la crisi, come è stato già detto, insomma, anche se cessassero domani le emissioni climaalteranti, il che non sarà sicuramente, il peggioramento delle condizioni ambientali su tutto il pianeta continuerà. Cioè il livello dei mari continuerà a crescere, i ghiacci continueranno a sciogliersi e gli eventi estremi a moltiplicarsi per moltissimo tempo. Quindi, e poi, come è stato detto, cioè l'Italia conta per l'1% delle emissioni climaalteranti del mondo, l'Europa per non più del 10% e quindi anche se noi riuscissimo a raggiungere gli obiettivi, cosa che nessuno sta cercando, nessun governo sta cercando di fare, gli obiettivi che ci siamo posti a Parigi e poi a Glasgow, eccetera, altri paesi non lo faranno, altre multinazionali non si adegueranno e le emissioni continueranno innescando e alimentando questi meccanismi di feedback positivo che ci fanno precipitare verso il... Quindi, oltre all'obiettivo generale sacrosante che va continuato a... dobbiamo continuare a perseguire, della mitigazione, cioè della riduzione delle cause che provano il cambiamento climatico, noi dobbiamo mettere al centro del nostro operare l'adattamento, cioè il tentativo di costruire degli ambiti di vita e di convivialità, ovviamente, anche in previsione di condizioni climatiche e ambientali molto più ostiche, molto più gravi, molto più difficili da affrontare di quelle che siamo abituati a contenere. E questo non è il tema di un obiettivo generale, certamente si possono fare le dighe per contenere l'innalzamento del livello delle acque o delle altre dighe per accumulare l'acqua nei momenti in cui ci sono le precipitazioni per poi usarla dopo, sono misure di adattamento, ma il vero adattamento è non solo l'adozione di uno stile di vita più sobrio da parte di ciascuno di noi e soprattutto da parte di gruppi, di organizzazioni che si mettono insieme per adottare stile di vita più sobrio, ma soprattutto un'attività che riguarda le questioni fondamentali intorno a cui è organizzata la nostra vita quotidiana, cioè il rifornimento energetico, il rifornimento idrico, la gestione dei rifiuti, la mobilità e l'alimentazione, ovviamente. Sono tutte misure che possono essere pensate, concepite, sviluppate e in parte realizzate anche contro le politiche ufficiali dei nostri governi a livello locale, nelle sedi dove i rapporti personali, la conoscenza diretta o perlomeno indiretta, ma comunque con la capacità di individuare compiti e responsabilità di ciascuno, eccetera, sono più facilmente raggiungibili attraverso forme istituzionali o non istituzionali di governo locale. E questo fa sì che al centro delle politiche di adattamento ci debba essere la ricostruzione di comunità, cioè di relazioni il più possibile dirette fra le persone che sono coinvolte da questo fenomeno. Purché queste misure adottate siano replicabili, naturalmente, adottandole ai diversi contesti. E questo fa intravedere un percorso completamente differente, anche se alla fine si spera che si possono congiungere, dalla rivendicazione invece che siano gli stati, e addirittura il concerto fra gli stati di tutto il pianeta, a realizzare quelle misure di carattere sia costituzionale che economico e ambientale, che permettono di arrestare il collasso ambientale. Questa strada la stiamo percorrendo da 25 anni e non ha dato nessun risultato, anzi ha dato risultati assolutamente contrari. Mentre la possibilità di perseguire la strada dell'adattamento a condizioni che comunque saranno peggiori, non sono gli scenari su cui si basano tutte le analisi della situazione economica e le prospettive che vengono prospettate dai nostri economisti, è semplicemente un processo che se si svilupperà, si svilupperà a macchia di leopardo. Qua una comunità, qua un'altra, qua ancora una terza, là un insieme, una rete di comunità che riusciranno a realizzare dei processi di adattamento a condizioni molto più difficili che proprio per la loro replicabilità potranno essere anche adottati da altre comunità che per adesso non sono assolutamente su questa strada. Naturalmente quando la forza per imporre delle misure di carattere generale a livello statuale o regionale o sovranazionale eccetera, ci sarà semplicemente quando una serie di queste comunità saranno sufficientemente forti e costituite per potersi imporre. E vorrei dire che la ricostituzione di una vita di comunità è anche la condizione essenziale per affrontare la principale delle conseguenze della crisi ambientale e climatica che stiamo già attraversando e vivendo eccetera, che sono le migrazioni. Cioè il fenomeno proprio che turba maggiormente la vita politica a livello nazionale e mondiale eccetera. perché un'accoglienza che è diffusa, che sia costruttiva, che rappresenta una prospettiva di inserimento, di crescita dei migranti e addirittura la premessa per un collegamento con le loro comunità di origine in modo da elaborare insieme dei programmi di replicazione di esperienze già fatte, per contenere il deterioramento e le conseguenze del deterioramento del clima anche nei paesi di origine di questi migranti può essere realizzato soltanto a livello comunitario. Se no c'è semplicemente l'accatastramento dei migranti dentro questi contenitori dove sono costretti a non far niente e sempre più fortemente le politiche di respingimento anche e sempre di più contro i mezzi militari. Allora, la costruzione, la creazione di una comunità in grado di affrontare il problema dell'adattamento della vita civile a condizioni molto più ostiche, più difficili eccetera passa attraverso la cura. La cura, il lavoro di cura, il lavoro cosiddetto di riproduzione della vita che non è soltanto la riproduzione biologica e materiale cioè la generazione e il nutrimento delle persone eccetera ma il lavoro riproduttivo è il lavoro che tiene che contribuisce a tenere insieme o a costruire o a mantenere o a far prosperare una comunità sulla base dei principi di adattamento che io ho detto. La caratteristica fondamentale di una comunità condatta sulla cura e che dà una priorità al lavoro riproduttivo che non è soltanto quello delle donne anche se il lavoro svolto oggi fino ad ora nel corso della storia è prevalentemente delle donne rispetto al lavoro produttivo cioè al lavoro che produce valore, che produce plus valore, che produce merci e su cui si sono basate tutte le teorie economiche dall'avvento del capitalismo ad oggi e che è alla base di quello che anche nella tradizione culturale marxista cui molti di noi si rifanno, si sono rifatti in passato eccetera è nient'altro che lo sviluppo delle forze produttive. La emancipazione dell'umanità dai vincoli della scarsità, della miseria, del penuri eccetera è affidato allo sviluppo delle forze produttive cioè al lavoro produttivo. No, non è più così, è esattamente il contrario la salvezza o le speranze di salvezza affidate alla crescita di una comunità sono affidate esclusivamente al lavoro riproduttivo a quello che tiene in piedi una comunità naturalmente, innanzitutto dal punto di vista alimentare della sua possibilità di rigenerarsi ma senza pensare che tutto il lavoro di riproduzione della comunità debba essere affidato alle donne mentre gli uomini si devono affidare ad altre cose. Questa concezione, ho finito, mette in crisi radicale i temi della crescita, dello sviluppo e anche del progresso. Sono tre parole molto belle quando riguardano singoli individui o singoli contesti sono parole assolutamente negative quando riguardano la generalità dei processi che attraversano l'umanità e il valore positivo di queste parole chi non vuole che i bimbi crescano che le piante crescano che il raccolto maturi che l'intelligenza si sviluppi che la conoscenza cresca il valore positivo di queste parole viene usato per mascherare quello che invece è il meccanismo fondamentale del sistema capitalistico che è l'accumulazione del capitale. Concludo invitandovi a un gioco di traduzione molto interessante. Poiché crescita è nient'altro che il modo in cui oggi il linguaggio economico e il linguaggio politico indicano l'accumulazione del capitale senza nominarla provate tutte le volte che qualche politico qualche economista o qualche columnista del giornale o qualche protagonista dell'universo mediatico nomina la parola crescita a sostituirlo con il termine accumulazione del capitale e vi renderete conto non solo di quanto siamo ormai prigionieri di una logica che ha interiorizzato i meccanismi di fondo del capitalismo ma anche del fatto che questa cosa qua sfugge addirittura anche a noi. Quanti di noi hanno scritto un articolo poi per esempio lamentandosi che le politiche del governo poi tutto sommato non hanno portato a quella crescita che aveva promesso cioè a quella accumulazione di capitale. E il progresso che non è nient'altro che il volto positivo della crescita e lo sviluppo sempre connotato da il fatto che deve essere sostenibile che deve essere ecologico che deve essere umano eccetera sono le maschere di questo meccanismo di accumulazione del capitale. E il progresso in particolare è legato a una concezione che di uno sviluppo lineare della storia in cui ogni civiltà è superiore a quella che l'ha preceduta e ovviamente la civiltà più superiore superiore a tutte quante è il capitalismo e la cultura occidentale eccetera. Questo non è vero oggi ci accorgiamo che culture che sono sopravvissute al tentativo di sterminarli di eliminarle da parte della cultura occidentale sono delle indicazioni fondamentali a cui rifarsi per cercare di ricostruire quell'universo della cura di cui ci stiamo occupando. Cose per garantire alle prossime generazioni la possibilità di sopravvivere e possibilmente di sopravvivere in un mondo in un ambiente più ricco di esperienze più ricco di conoscenze anche se più sobrio nei consumi che è proprio quello che nello sviluppo sostenibile parò la termine messa a punto 40 e oltre 45 anni fa e poi perseguita e ripetuta come una cantilena da tutti quanti i politici in particolare quelli che si definiscono progressisti che si rifanno appunto a una concezione del progresso che va assolutamente superata quello sviluppo sostenibile non ha saputo assolutamente garantire nessun futuro alle prossime generazioni dobbiamo cercare di occuparci noi imboccando un'altra strada grazie grazie a tutti